E' possibile tornare allo sport come gioco lontano da logiche di business e se si in che modo? Senz'altro il calcio moderno di oggi è un grande business, non c'è da nascondere. Ci sono delle somme molto importanti che siano nell'organizzazione, nella valorizzazione degli eventi, i trasferimenti di giocatori sono effettivamente somme molto importanti. Però è anche vero che non c'è solo questo, quando noi si parla di calcio magari pensiamo ai giornali a lunedì, quindi a quel calcio molto discusso così anche in televisione, però c'è anche un altro calcio, c'è il calcio giovanile, c'è il calcio femminile, c'è il calcio giocato nelle leghe minori che è una parte dello sport molto importante. Quindi senz'altro una cosa che si può fare, che si dovrebbe fare, è cercare di non dimenticare l'esistenza di anche questa parte del mondo calcistico, per non poi parlare di altre discipline sportive, che ci sono ovviamente altri sport che sono molto meno business del calcio moderno. Io ho una certa esperienza di quello che UEFA cerca di fare sotto l'aspetto, diciamo così, si inizia con la buona educazione per poi andare a finire nel migliore delle ipotesi con i diritti umani e effettivamente quelli che guardano qualche partita magari di Champions League o di partite tra le squadre nazionali avranno già visto le varie bandiere o autocollanti con rispetto, questa grande pubblicità che UEFA cerca di fare nel calcio business, però quello che forse meno persone sanno e che a me pare importante sottolineare sono anche tutte queste altre attività che vengono fatte anche proprio a questo scopo ad altro livello. Quindi abbiamo tantissimi tornei di calcio organizzati dalla UEFA a livello giovanile, a tantissimi tornei organizzati anche tra le rappresentative di paesi meno ambienti o anche fuori dall'Europa, proprio con l'idea che conoscendo sì meglio ci si rispetta anche di più e quindi la ricerca del rispetto dell'enia differente, del colore di pelle differente, della religione differente.